rieccoci qua sono tornato in compagnia del nostro amico per leggere come promesso il canto 18 il cui significato fondamentale davvero fondamentale in tutta la riflessione dantesca abbiamo già abbondantemente sottolineato quindi bando alle ciance leggiamo e cerchiamo proprio di spiegarci il testo ripartiamo dal verso 19 no o meglio dal 16 in cui come abbiamo visto prima nella precedente video lezione virgilio invita dante ad aguzzare l'intelletto affinché gli sia chiaro il fatto che spesso dei ciechi si sono eretti a falsi maestri affinché fietti sarà chiaro l'errore dei ciechi che si fanno duci in cosa consista questo errore l'abbiamo abbondantemente detto l'animo e vediamo proprio la dimostrazione il ragionamento il ragionamento virgiliano l'animo che è creato ad amare presto ad ogni cosa è mobile che piace tosto che dal piacere in atto è desto ritroverete proprio con precisione le cose che ho cercato di spiegare prima allora l'anima è l'anima dell'uomo che è creato presto ad amare cioè con già l'attitudine predisposta ad amare è mobile cioè si muove verso ogni cosa che piace cioè è pronta ad amare a desiderare tutto ciò che piace non appena dal piacere cioè dalla bellezza di ciò che vede è desto in atto cioè è chiamato appunto a passare dalla condizione di una desiderio no di un amore potenziale alla sua realizzazione in atto terminologia aristotelica potenza atto e questo concetto è ribadito vostra apprensiva cioè la vostra capacità di apprendere facoltà conoscitiva da esser vivace trage intenzione da esser verace scusate trage intenzione cioè ricava l'intenzione anche qui un termine tecnico per indicare l'immagine quindi la rappresentazione dell'oggetto da un essere reale quindi un oggetto reale visto attraverso gli occhi provoca alla facoltà conoscitiva suscita e crea nella facoltà conoscitiva la rappresentazione dell'oggetto stesso sì che l'animo ad essa volger face sì che fa volgere l'animo a questa immagine a questa rappresentazione quindi la vista di un oggetto reale fa sì che la nostra capacità conoscitiva crei una rappresentazione cui l'anima si volge e se rivolto in verdi lei si piega e se rivolto in verdi lei si piega quel piegare è amore cioè allora qui attenzione che poi vengono proprio individuati due momenti fondamentali e se ora che questo animo è volto verso quell'immagine verso quella rappresentazione si piega cioè quasi si mette in moto verso di lei la desidera quel piegarsi cioè quel volgersi quel indirizzarsi verso è l'amore quella è natura che per piacer di nuovo si lega ecco questa è un'attitudine naturale natura che si unisce si lega all'animo ecco questo concetto francamente dell'unione dell'attitudine naturale dell'animo non mi è chiarissimo e non ho trovato spiegazioni convincenti prendiamolo per quello che è dicevo quello è natura attitudine naturale che per il piacere cioè appunto suscitata no passata appunto in atto da un piacere cioè da una cosa bella che piace ex novo di nuovo quindi ogni volta che riceve questa cioè che vede no una cosa bella ex novo da capo da principio si lega attitudine naturale che si lega in voi si lega al vostro animo ogni volta che quindi da capo come da principio ogni volta che sorge e vede qualcosa di bello che come vi ho detto prima crea una rappresentazione dell'oggetto tale per cui l'anima si rivolge ad esso ma attenzione allora i due passaggi sono questi la facoltà conoscitiva l'apprensiva come abbiamo detto ricavata l'immagine dalla realtà esterna la svolge nell'animo sembra quasi appunto squadernarla no nell'animo e fa sì che esso si rivolga verso di essa e questo è il primo momento il primo momento se vogliamo più istintivo naturale è attratto da essa ma poi seconda fase l'animo che è attratto rivolto verso l'immagine piega verso di essa allora il passaggio da una potenziale rivolgersi a a un vero e proprio muoversi verso implica la fase intermedia della scelta la fase fondamentale della adesione della volontà ecco il passaggio quindi c'è una prima fase istintiva l'attrazione o che bello tale per cui il nostro animo volge verso ma il passaggio da questo volgersi verso a un vero e proprio piegare cioè muoversi per conquistarlo diciamo questo implica una scelta è la nostra volontà che si mette in moto per conquistare ciò che ci ha attirato e lì agisce la ragione che deve discernere il buono dal cattivo per muovere la nostra volontà è chiaro questo e l'amore è questo piegare non è semplicemente l'attrazione l'amore è il piegare cioè il muoversi verso che implica l'unione certo dell'attrazione con la libera volontà ispirata dalla ragione che ha distinto il bene dal male poi come il fuoco muoversi in altura cioè verso l'alto per la sua forma per la sua essenza per la sua natura che è predisposta a salire là dove più in sua materia dura poi spiego così l'animo preso dall'amore catturato dall'amore entra in desiderio che è un moto spirituale un moto dello spirito e mai non posa mai non si placa questo desiderio finché la cosa amata e quindi desiderata lo fa gioire bellissima l'amore implica gioia nel desiderare la cosa amata quando questo questa gioia viene meno chiaramente ciò significa che è venuto meno l'amore qui c'è una similitudine l'avete vista con il fuoco qui dobbiamo ci ritorneremo introducendo il paradiso l'anno prossimo si dice che è tipico del fuoco volgersi verso l'alto no perché è attratto dalla sfera del fuoco che secondo la scienza antica circonda la terra e quindi ed è la la sfera appunto fatta di fuoco a cui ogni fiammella sulla terra è attratta per questo dice il fuoco tende verso l'alto questa è l'immagine e quindi così come il fuoco tende verso l'alto perché lì c'è no la sua sfera la sfera adesso specifico allo stesso modo l'animo è volto desidera no ciò che gli procura desiderio e gioia finché appunto prova gioia per ciò che è l'oggetto del suo desiderio ora ti può apparire quanto è nascosa la verità quant'è lontana la verità nascosta la verità a coloro che avvera ciascun amore in sé laudabile cosa è lontana la verità da coloro che affermano che l'amore in sé è lodevole perché forse appare la sua materia sempre buona cioè l'attitudine potenziale può essere sempre considerata buona nel fatto che potenzialmente l'uomo desidera è predisposto a desiderare ma nel momento in cui si piega cerca di realizzare questo desiderio e beh non è detto che sia buono questa agire questa azione dell'uomo per realizzare il suo desiderio e lì è appunto la ragione che deve dirgli se l'oggetto del desiderio è buono o no per semplificare no appunto dovessi questo è un esempio che faccio sempre quando leggo questo canto no e se vedere una meravigliosa fanciulla è chiaro che non posso essere colpevole del fatto che la bellezza di questa fanciulla susciti in me no un moto dell'animo che in qualche modo portato ad ammirare quella meraviglia della natura ma nel momento in cui io decido di assecondare e faccio in modo di realizzare questo mio desiderio e beh ecco che io divento colpevole responsabile della mia scelta se non altro perché sono sposato e di là c'è mia moglie che mi sente e quindi mai mi permetterebbe di fare una cosa del genere ma torniamo seri ripeto che però questo discorso sull'amore non è esclusivamente l'amore per una bella fanciulla cioè l'amore è come attrazione tra i sessi come attrazione tra le persone tutto ciò che è bello suscita attrazione però dobbiamo chiederci se è giusto o no assecondare questa attrazione questo è il messaggio molto razionale che dante ci vuole trasmettere allora dice sì di per sé la predisposizione ad amare a contemplare è meravigliosa è buona non è cattiva ma e poi usa una metafora è come la cera no di per sé la cera come materia non è né buona né cattiva ma il segno può essere considerata buona si è un buon materiale che ci permette di sapete no la cera di lasciare l'impronta no il suggello ecco ma non è detto che questa impronta riesca bene che il suggello sia buono sia ben fatto il fatto che la cera sia di per sé un materiale buono non implica che l'impronta che si lascia su di essa sia buona le tue parole il mio seguace ingegno il mio ingegno che ti segue rispose io a virgilio mi hanno amor discoverto mi hanno fatto capire bene che cos'è la natura l'essenza dell'amore ma ciò ecco che da dubbio ne sorge un altro ciò mi ha fatto più pregno più pieno più proprio carico di dubbio perché verso 43 se amore è di fuori a noi offerto e l'anima non va con altro piede se dritta o torta va non è suo merto ecco che questa è proprio la conseguenza del discorso di prima cioè si focalizza proprio l'attenzione sulla responsabilità morale nella secondare o meno l'amore e qui se cerca ancora una volta di difendere dante l'idea della non responsabilità in questo gioco delle parti no dante finge in qualche modo di essere portatore di una idea che è quella che gli deriva dalla tradizione che abbiamo detto prima allora dice ma scusa se l'amore è suscitato è offerto a noi dal di fuori cioè dalla vista di un oggetto della bellezza di un oggetto e l'anima si muove verso di lei in modo naturale per questa predisposizione naturale qui dice non con altro piede allora se va diritto storto cioè se la strada no che intraprende buono cattiva non dipende da lei non è suo merto perché dipende da che cosa ha suscitato l'amore se ha suscitato l'amore qualcosa di cattivo ma l'anima è naturalmente portata a seguire questo desiderio che colpa né a lei non è suo merito se quella strada è oggettivamente sbagliata e degli amè ma non è così ecco che virgilio smonta quest'ultima resistenza no di dante resistenza ad ammettere la responsabilità individuale nell'amore non è così e era implicito in quel discorso che abbiamo fatto prima dei due delle due fasi no c'è una prima fase e poi c'è il piegare verso c'è semplicemente la fase del del volgere e c'è la fase del piegare no volgere è ammirare quanto è bello piegare è muoversi verso prima però non l'aveva ancora detto che in quel momento nel passaggio tra l'una e l'altra fase agisce la ragione e la volontà adesso lo spiega non è suo merto e no appunto e degli amè io ti posso dire ciò che la ragione può vedere è ciò che la ragione può spiegare ma qui si entra appunto in una questione che anche teologica perché riguarda il tema del libero arbitrio da in di in là t'aspetta pura beatrice per tutto ciò che va oltre ciò che la ragione può sviscerare affidati a beatrice che rappresenta la teologia perché opera di fede riguarda la fede ma comunque per quello che la ragione può dire proviamoci o e qui c'è un discorso molto complesso che inutile anche leggere vi leggo direttamente la parafrasi siamo al frammento che va dal 49 al 58 allora ogni anima forma sostanziale che è distinta dalla materia setta setta distinta dalla materia ma forma con essa nuova unità ha in sé raccolta in sé colletta in sé un'attitudine specifica una propria virtù che non è avvertita se non nel momento in cui agisce che non è sentita se non c'è l'operare e non si manifesta né si dimostra mai se non per il suo effetto come la pianta che si manifesta e manifesta la sua natura nel momento di mettere foglie e capiamo che pianta è perciò la onde venia l'intelletto delle prime notizie uomo non sa da dove gli deriva la conoscenza intelletto delle prime verità quelle innate e non sa da dove gli deriva l'affetto dei primi appetibili l'amore nei confronti delle prime cose desiderabili l'uomo non lo sa perché fa parte della sua predisposizione specifica come lo studio del miele di fare il miele è la disposizione precipita la predisposizione specifica delle api allora cosa significa di fuori di questa appunto parafrasi che abbiamo letto allora l'uomo ha in sé una sua natura specifica che lo porta e non si sa bene da cosa derivi lo porta a desiderare i primi appetibili le prime i primi beni desiderabili che lo che lo attirano questa prima inclinazione innata appunto il volgere questo moto istintivo che ci porta a ammirare ciò che è bello non dipende non è non dipende dalla nostra volontà e quindi non implica una nostra nostro merito o una nostra colpevolezza questa prima voglia merito di lode o di biasimo non cape non contiene in sé merito di lode o di biasimo non è ragione né di lode né di biasimo non può essere né lodata né biasimata rimproverata condannata perché non dipende dalla volontà umana ma perché a questa ogni altra si raccoglia innata vè la virtù che consiglia questo è il punto affinché a questa prima inclinazione istintiva e naturale che non può essere né buona né cattiva affinché a questa prima inclinazione si conformi cioè si raccoglia ogni altro desiderio ogni altra c'è una virtù specifica che vi consiglia e che è in voi innata che è la ragione ecco che si ribadisce questo concetto innata vi è la virtù che consiglia ed è l'assenso deve tenere la soglia cioè deve stare sulla soglia quasi a come dire consigliarvi se a sentire o meno cioè se a secondare o meno questa attrazione innata questo è il principio da cui si piglia ragione di meritare in voi questo è il principio della responsabilità individuale per cui chi si comporta in un certo modo è meritevole di premio meritevole di lode chi invece si comporta diversamente è meritevole di biasimo a seconda che accolga e vigili su buoni e orei amori a seconda che scelga amori buoni o cattivi coloro che ragionando andarono al fondo cioè che andarono al fondo delle cose che riuscirono in passato i filosofi e anche non necessariamente cristiani coloro che hanno sviscerato fino in fondo questo tema scoprirono questa innata libertà dell'uomo vedete l'importanza di questa sottolineatura è l'uomo a una innata libertà d'azione che può comprendere chiunque ragioni in modo approfondito a prescindere dall'illuminazione della fede perciò anche i filosofi antichi ci hanno dato moralità cioè la scienza morale le loro dottrine morali che sono fondate su questa idea della libertà perché solo nel momento in cui siamo liberi e responsabili allora possiamo essere lodati o rimproverati per le scelte che facciamo onde poniamo che di necessità sorga ogni amore che dentro a voi si accende di trattenerlo è in voi la potestà ammettiamo pure che l'amore a livello appunto della prima fase della fase istintiva nasca di necessità inevitabilmente istintivamente naturalmente a voi sta se assecondarlo o meno se trattenerlo anzi alimentarlo e appunto passare in azione oppure cercare di allontanarlo da voi attraverso la libera volontà illuminata dalla ragione per me questo è il campo di competenza dice virgilio io che rappresento la ragione ma la nobile virtù beatrice intende come libero arbitrio quello che io chiamo libertà quello che io chiamo ragione libera volontà illuminata dalla ragione in termini teologici beatrice cioè la scienza teologica chiama libero arbitrio non a caso è lo stesso termine che avevamo usato nel canto 16 è in voi il libero arbitrio e vi ricordate Machiavelli quando dice affinché sia salvo in voi il libero arbitrio essendo un libero arbitrio un dogma di fede non si può pensare che non esista e Machiavelli applica questo concetto anche di fronte alla fortuna proprio è un uso un po' strumentale in questo caso di una considerazione di un principio teologico no quello che faceva Machiavelli vi ricordate per affermare che c'è uno spazio di azione per l'uomo anche di fronte alla fortuna perché se noi dicessimo che il comportamento dell'uomo è tutto determinato dalla sorte non ci sarebbe libero arbitrio e questo lui lo vuole sottolineare se non altro cautelandosi dicendo ma libero arbitrio è affermato dalla dottrina della fede dalla dottrina cattolica non si può dire che non esiste perché lo dice anche la teologia è chiaro adesso completiamo anche quel ragionamento famoso sul mezzo e mezzo no coloro ecco appunto questo è quello che io chiamo libera volontà teologicamente è il libero arbitrio e perciò guarda di averlo a mente sa parlare prende guarda quindi se ti capiterà di parlarne appunto con Beatrice guarda che è questo è il libero arbitrio è questo e qui si conclude la parte dottrinale e velocissimamente diamo un'occhiata alla seconda parte la luna faceva le stelle noi parer più rade quindi sorge la luna siamo a mezzanotte vi ricordate che avevamo visto no scendere le tenebre di radarsi le ultime luci del tramonto scendere le tenebre prima di addormentarsi dante fa questa riflessione è come diceva virgilio nel canto 17 affinché tu tragga frutto anche da questa pausa ma a questo punto prima ancora allora troviamo un dante finalmente soddisfatto io che la ragione aperta e piana siamo al verso 85 sovra le mie questioni avea raccolta quindi ho raccolto mi sono concentrato ho raccolto la mia ragione ora finalmente ben chiarita sulle questioni di cui abbiamo parlato prima stavo come un uomo che sonnolento vaneggia che comincia un po a perdere il controllo della ragione dopo che interessante anche la frase la terzina precedente al verso 81 quell'ombra gentile tale per cui pietole che è il famoso andes no il famoso villaggio dove virgilio era nato è considerato più che un semplice villaggio mantovano perché è la patria di virgilio quindi dopo che quelle quell'ombra gentile avea diposta la soma del mio caricare cioè aveva alleggerito praticamente si era alleggerito dell'incarico che gli avevo posto del peso che gli avevo posto di spiegarmi i miei dubbi io ero tutto bello soddisfatto stavo per adorbitarmi ma questa sonnolenza mi fu tolta da gente che dietro le nostre spalle a noi era volta e a parte le similitudini sente insomma la corsa di gente di una schiera di anime tosto fur sovra noi perché correndo siamo al verso 97 si muovea tutta quella turba magna quindi una grande folla di gente che corre e i due davanti pronunciano i due esempi di sollecitudine maria che corse con fretta alla montagna come sempre i primi esempi di virtù premiata sono sempre riferiti alla madonna che qui corse alla montagna cioè a incontrare elisabetta dopo aver saputo che anche elisabetta internet attendeva un figlio la cugina elisabetta il figlio che poi sarà giovanni battista il precursore di gesù e allo stesso modo anche cesare fu un esempio di sollecitudine perché non perse tempo e e compì tutte le sue imprese per fondare il suo impero vi ricordate che l'impero è considerato provvidenziale dalla teoria politica di dante allora che cosa sono queste anime che corrono è ovvio che le anime che corrono così come non hanno mai corso in vita loro perché erano accidiose quindi pigre quindi un po infastidite da tutto l'accidia quel peccato tale per cui nulla vale la pena di stimolare la nostra energia ed è in questo senso molto simile alla condizione dei degli gnavi dei pusillanimi che non a caso anche loro correvano poi correvano dietro la bandiera gli ideali che loro non hanno mai riconosciuto nella loro vita punti vi ricordate da vespe da fani e insetti vari non c'è più ecco questa dimensione un po schifosa è che rappresentava i pusillanimi e non c'è più l'atteggiamento di dante invitato a non guardarli vi ricordate a non considerarli perché non sono degni di essere neanche nominati qui bene o male sono tutte anime che si sono pentite e quindi sono destinate alla beatitudine terra non possono essere considerate indegne però la punizione è simile quel correre punisce la loro eccessiva pigrizia tepidezza non è solo pigrizia è proprio il non muoversi non attivarsi di fronte al bene primariamente di fronte a dio di fronte alla volontà di dio che si manifesta in tanti modi no in tanti modi anche per esempio richiedendoci di attivarci nelle varie noi nei vari ambiti della nostra vita per realizzare il suo progetto per realizzare il suo la sua volontà e quindi in qualche modo anche questo cesare no che si mette in moto per di fatto instaurare l'impero che per dante è provvidenziale è il modo specifico di cesare per realizzare il progetto di dio in particolare ecco qui però andiamo veloce dante riconosce il motivo di questo correre o gente in cui fervore no virgilio scusate non dante o gente in cui fervore acuto adesso ricompie cioè compensa la negligenza e l'indugio cioè il ritardo è da voi messo per tiepidezza in ben fare perché foste troppo tiepidi no nel agire bene e chiede come al solito virgilio con questo giro è questa perifrasi chiede informazioni col questo è vivo e vuole andare su per cui diteci per dove si passa è un po come i bersaglieri no sapete la fanfara del bersaglieri che anche quando suona corre no come i bersaglieri questi dicono veniteci dietro e noi dobbiamo correre noi abbiamo voglia siamo si pieni di voglia di muoverci e già perché appunto hanno nel momento in cui espiano il loro peccato sono mossi proprio dal desiderio di espiare hanno voglia di correre interessante per loro non è semplicemente una punizione è il modo con cui loro realizzano il loro desiderio di purificarsi e quindi visto che noi non possiamo star fermi e siamo mossi dal desiderio dalla voglia di correre veniteci dietro e perdonaci se sembriamo maleducati perché non ci fermiamo davanti a voi dice proprio questo perdona se consideri villania la nostra giustizia cioè la giusta punizione e il giusto desiderio che noi abbiamo di purificare la nostra colpa qui si presenta un personaggio oscuro di cui la storia non ci dice nulla fui abate di san zeno al tempo del buon barbarossa quindi evidentemente allora san zeno e verona no sapete la meravigliosa basilica di san zeno nei pressi della città di verona è un abbazia quindi l'abate è il capo se vogliamo no il superiore della comunità monastica e qui si presenta come uno degli abate di san zeno evidentemente era noto il fatto che fosse un po è acidioso infastidito poco attivo al tempo del buon barbarossa buono perché vi ricordate che barbarossa era colui che aveva combattuto in realtà non con successo contro la lega lombardi liberi comuni italiani che lo sconfissero sostanzialmente nella battaglia di legnano nel 1176 dopo che lui però aveva punito milano per la sua ribellione ed è questa la punizione che si ricorda di cui dolente ancora milano ragiona ma perché buon barbarossa nella come dire nella retorica anche poi dell'ottocento risorgimentale barbarossa l'invasore il tiranno i liberi comuni sono invece l'espressione della libertà italiana però sappiamo benissimo che dante era pro impero e contro quindi l'affermazione delle libere autonomie comunali e quindi barbarossa è buono no in qualche modo l'impero di barbarossa è la continuazione dell'impero di carlo magno e dell'impero romano nella sua nel suo pensiero che esprimerà chiarissimamente nel paradiso è con giustiniano beh io sono l'abate di san zeno e sembra però soltanto un pretesto per colpire evidentemente stava molto a cuore ad ante questa situazione per colpire un altro abate di san zeno considerato indegno e anzi più ancora per colpire il padre che aveva imposto quel figlio sul nel ruolo di abate del monastero di san zeno ma interessante sapere chiesto padre sto padre tale ha già l'un pie dentro la fossa che tosto piangerà quel monastero e tristofia d'aver avuto in esso potere tal potere da poter imporre l'abate perché suo figlio mal del corpo intero e della mente peggio che mal nacque ha posto in loco di suo pastore allora piccolissima precisazione chi è costui questo padre che piangerà per aver avuto potere sul monastero di san zeno sto padre è alberto della scala signore di verona gli scaligeri della scala padre di quel bartolomeo della scala di quel can grande della scala vi ricordate a cui dante aveva inviato la lettera di dedica del paradiso con la spiegazione dei sensi della scrittura significato e del nome di commedia no i signori della scala furono signori estremamente benevoli nei confronti di dante che lo accolsero virtuosi è curioso che qui in qualche modo parli male del padre di questi suoi due protettori che furono bartolomeo e can grande della scala evidentemente perché gli stava a cuore quindi è superiore ad ogni in qualche modo interesse personale e gli stava a cuore colpire questa colpa del padre alberto della scala che aveva imposto come signore di san come abate di san zeno il figlio qui descritto in modo dispregiativo ma l'intero del corpo era un po meno mato era zopo ancora meno della sua mente quindi era un po scemotto e che mal nacque perché era un figlio illegittimo un figlio bastardo non come gli altri tre allora perché in effetti poi c'è un altro è al buino della scala dicevo ecco perché l'aposto nel ruolo di bastone è chiaro che qui a dante dà fastidio probabilmente ancora una volta l'ingerenza questa volta in un altro senso del potere politico su quello religioso il fatto che il signore di verona avesse imposto un abate cioè suo figlio illegittimo come abate del monastero e questo può essere anche una dimostrazione dell'inflessibilità di dante che anche nel momento in cui deve parlare dei suoi protettori lo fa liberamente nel frattempo questi se ne vanno è questa tour questa magna turba come aveva detto questa folla di acidiosi continuano la loro corsa quando dante viene invitato da virgilio a volgersi e a veder a veder altri due acidiosi che danno all'acidia di morso che correndo stanno espiando la loro acidia siamo al verso 132 e che pronunciano esempi di acidia punita che sono gli ebrei la lentezza con cui gli ebrei pur liberati da dio e fatti passare miracolosamente attraverso il mar rosso come qui si dice avevano lentamente con difficoltà seguito Mosè tant'è che morirono prima di arrivare nella terra santa e allo stesso modo vengono colpiti i troiani che non accettarono di seguire fino in fondo Enea ma che chiesero a partire dalle donne chiesero di fermarsi in Sicilia e che quindi non arrivarono nel Lazio esempio appunto anche qui uno più sacro uno romano mitologico uno con implicazioni con implicazioni teologiche l'arrivo appunto nella terra promessa l'altra con implicazioni politiche perché appunto Enea è comunque alla base di quel grandioso progetto progetto divino che Virgilio canta nell'Eneide e che Dante riprende perché porta alla fondazione dell'impero Cesare e Augusto attraverso Iulo erano nel mito considerati discendenti di Enea quindi vedete ancora una volta questa idea dell'impero come facente parte del piano di Dio allora non muoversi per realizzare questo progetto è equiparato al non muoversi per arrivare alla terra promessa perché è comunque un modo per realizzare il bene per realizzare il progetto di Dio bene fatto sta che finalmente tutti se ne vanno e Dante per un attimo ripensa a quello che gli è stato appena spiegato è mosso da nuovi pensieri nella testa ma questi pensieri si confondono perché si lascia prendere dal sonno e semmai questi pensieri si trasformano in sogni e vi anticipo solo che il sogno ma ci fermiamo giuro dicevo il sogno sarà quello di una bella donna e questo è un'immagine che poi ritorna in Ariosto di una bella donna che attrae Dante ma che poi si rivela per l'intervento di Virgilio mosso dalla grazia divina si rivela come una donna brutta puzzolente una strega e viene aperto il ventre che emana puzzo e con questo puzzo Dante si sveglierà dal suo sogno questo sogno della donna balbuziente ma che poi appare bella e tale da cantare come una sirena per poi invece ridiventare una brutta vecchiaccia puzzolente questa idea contiene l'idea della falsità dei beni che sono di per sé magari belli ma che l'uomo trasfigura che considera una ragione di vita per cui mette troppo energia nel cercare di acquistarli e che invece si rivelano falsi e ingannevoli e questo è anche se vogliamo un po' la continuazione del discorso che abbiamo fatto prima cioè l'uomo deve essere razionale nel seguire i suoi amori no ed è naturalmente una grande metafora che spiega le tre cornici successive quelle che in cui si espia l'eccessivo amore per dei beni umani che possono anche essere positivi ma che non sono la ragione di vita e vi ricordo che appunto le tre cornici che ci separano dalla vetta cioè dal paradiso terrestre sono le cornici delle avari che troppo impegno mettono nella ricerca del successo e specialmente delle ricchezze i colosi e i lussuriosi appunto che troppo con troppo ardore desiderano la bellezza femminile perché il punto di vista è sempre ovviamente quello maschile ma ora vi lascio vi saluto abbiamo finito questo ampio percorso dantesco su cui vi interrogheremo o almeno avvieremo delle piacevoli conversazioni se saremo ancora a distanza dopo pasqua un abbraccio e un saluto ciao ciao